Elena Pietrini sta saltando le finali del campionato russo. Elena Pietrini, giocatrice di pallavolo per la Dinamo Kazan, è stata sorprendentemente relegata in panchina nella prima finale del campionato russo. Il suo infortunio, gestito con cautela dal coach Zoran Terzic nelle fasi finali del campionato, potrebbe però ora compromettere la sua partecipazione per l'intera serie che vedrà aggiudicarsi il titolo di campione russo. Il problema fisico di Pietrini si è aggravato durante le semifinali, limitandone quindi l'utilizzo a un breve periodo durante i vari scontri per le semifinali. Il coach serbo, piuttosto pessimista sul suo recupero, ha indicato che potrebbe non giocare più nella stagione in corso e ha confermato indirettamente il suo ritorno in Serie A1, con Milano come sua possibile nuova destinazione per il prossimo anno. Tutti i tifosi, quelli italiani soprattutto, sono preoccupati perché Pietrini dovrà rientrare il più velocemente possibile per essere di nuovo pronta per la squadra di Velasco che si gioca il passo olimpico nella VNL. Speriamo bene e forza Elena!